ciao a tutti e bentornati nel mio bagno oggi il video non si svolgerà in bagno infatti la telecamera come vedete ce l'ho in mano ma si svolgerà davanti al computer perché un video dedicato a chi in effetti visto l'approssimarsi del black friday e del natale ha intenzione di farvi un regalo inerente la rasatura e magari non ha le idee chiare su cosa regalarvi quindi fatelo vedere alle vostre signore alle vostre fidanzate ai vostri amici a chi volete voi eccoci qui allora il primo sito sul quale ci troviamo è subito.it come vedete nel box di ricerca ho scritto poltrona barbiere perché è un regalo che tutto sommato a me piacerebbe tantissimo ricevere come vedete già dalle prime immagini trovate cose a qualsiasi prezzo e in qualsiasi luogo d'italia addirittura ecco 40 euro diciamo che se fossi io chi deve ricevere il regalo gradirei qualcosa di questo genere quindi una poltrona anni 60 50 60 a costo di doverla poi rifoderare insomma ok visto subito ci spostiamo su google e su google nel box di ricerca ho scritto corso barba esistono corsi barba di varie accademie tra l'altro vi do uno spoiler e a breve insomma uscirà un video al riguardo che ritengo possa essere molto interessante altro sito su cui ci spostiamo era sui goodfellas io qui ovviamente il mio codice referral che trovate qui sotto quindi se acquistate con quel codice referral per voi il prezzo non cambia ma in realtà aiuta del canale a crescere su rasoio goodfellas è già pubblicizzata qual è la scontistica relativa al black friday ed è per questo che faccio uscire il video così presto perché in realtà per alcuni il black friday inizierà già questo weekend per alcuni sono questi alcuni sono gli iscritti al gold club i quali riceveranno un un codice sconto personale da utilizzare quante volte vogliono praticamente da sabato 12 novembre a sabato 13 novembre avranno il 35 per cento di sconto dopodiché per gli iscritti al sito quindi se vi iscrivete adesso effettivamente rientrerete nel quarto gruppo come vedete per gli iscritti al sito a seconda di quando si sono iscritti io per esempio mi sono iscritto nel 2017 quindi già da lunedì 14 novembre continuo ad avere il 35 per cento di sconto fino al 23 novembre il secondo gruppo dal 16 novembre il terzo dal 18 e il quarto dal 21 perché fanno questo fanno questo perché in effetti poi a un certo punto il rischio è che i prodotti finiscano o addirittura che come è successo l'anno scorso il sito si intasi e non si riesca ad acquistare in certi orari quindi fanno questa questa cosa qui perché lo sconto è molto forte ragazzi 35 per cento è tantissimo gli appassionati che già insomma acquistano su questi siti lo sanno benissimo ma siccome questo video è in realtà dedicato a a chi magari non è appassionato ma vuole fare un regalo un appassionato ecco questo è il è il è il dato interessante il 35 per cento è tantissimo perché dico faccio uscire oggi il video perché magari volete regalare anche l'iscrizione al gold club alla persona a cui desiderate fare un regalo magari gli regalate l'iscrizione al gold club che lui utilizzerà nei prossimi 365 giorni con quella avrete accesso al al 35 per cento già da sabato 12 novembre giorno in cui acquisterete casomai un sapone un prodotto qualsiasi che potete aggiungere come regalo l'iscrizione al gold club andiamo a vedere quanto costa io sono iscritto ma non me lo ricordo costa 39 euro e 95 in effetti l'iscrizione al gold club vi dà il 10 per cento di sconto come vedete qui sotto per tutti gli ordini superiori a 29 euro questo che vuol dire che effettivamente essendo i prodotti da barba abbastanza costosi se voi regalate a una persona che ha questa passione l'iscrizione al gold club a 39 95 avete speso 40 euro è vero ma probabilmente lui ne risparmierà molti 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 di più nel corso dell'anno di seguito atteso che potete utilizzare il mio codice o non utilizzarlo per me è indifferente insomma o meglio non è indifferente ma d'altra parte non mi posso offendere se non lo utilizzate io adesso faccio una carrellata di prodotti rasoi pennelli eccetera eccetera e vado a darvi delle indicazioni su quelli che conosco che ho provato qualcosa che non conosco ma che sono certo essere di qualità e di modo che magari se non siete molto dentro l'argomento siete in grado di fare un regalo mirato ok il primo rasoio che vi consiglio è il rockwell 6s in acciaio costa 154 euro c'è in vari colori ok perché il 6s perché un regolabile quindi se non sapete che 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 rasoio gradisce la persona a cui desiderate fare il regalo è evidente che andate a prendere un 6s quello c'ha sei regolazioni tra queste regolazioni sicuramente almeno un paio andranno bene per lui è evidente che 154 euro sono tante quindi in effetti potete andare a prendere il 6c che adesso è esaurito ma che sarà presto disponibile la differenza qual è il materiale con cui è prodotto e il luogo di produzione il 6s è fatto negli stati uniti e il 6c se non è erro è fatto in india diciamo che ha una fattura di minor qualità ma le forme le geometrie sono esattamente le stesse quindi può andar bene comunque il la seconda pagina che andiamo a vedere è la pagina della rex io sono un innamorato di rex envoy che questo no non è questo il rasoio che ho io e il rex envoy eccolo qui classico pagato 149 euro ma sempre nell'ottica di regalare un regolabile in questo caso di altissimo livello potete andare su un rex ambassador che sempre che spero sia disponibile nei prossimi giorni successivamente andiamo sulla pagina della mercur ossia su sul marchio mercur o voi chiaramente i marchi li andate a trovare qui cliccando su marchi trovate tutti i marchi disponibili comunque se volete andare direttamente a colpo su quello è che che vi sto dicendo io potete scriverlo tranquillamente qui sulla ricerca o di della mercur la mercur fa tantissimi rasoi nell'ottica sempre di un regolabile potete scegliere un progress 500 un 510 che è uguale ma ha il manico più lungo o addirittura un futur ammesso che future ammesso che sia disponibile ok oppure uno qualsiasi dei loro rasoi sono tutti ottimi ovviamente dovete un po conoscere qual è la differenza tra un tipo di rasoio piuttosto che un altro no però sono comunque degli oggetti ben fatti di ottima qualità dopo la mercur ecco qui andiamo sul veramente sull'elitario vado su timeless razor ovviamente ecco qui notate che lo stesso rasoio questo questo è uguale a questo la differenza è il gap in questo caso vuol dire che questo è più gentile di quest'altro in linea puramente teoria e beh anche pratica non solo teorica comunque potete scegliere un rasoio di questi qui tranquillamente e sicuramente fate un regalo gradito questi sono rasoi ragazzi ottimi fantastici io nella fattispecie ho quello in bronzo questo close comb eccolo qua questo qui ed è uno spettacolo è uno spettacolo anche per com'è fatto è veramente ben fatto c'ha questa stand poi quello in bronzo la figata è che fa una patina che si generisce non è il tempo e non è male altro rasoio che vi consiglio alla grande è il muramasa lo so qui stiamo andando su costi alti un regolabile fantastico ecco questa era mia figlia se l'avete sentita che la valcana e se invece non vi piace il muramasa c'è il masamune che è un rasoio abbastanza efficace quindi diciamo che comunque è uno strumento di altissimo livello non è regolabile quindi gli regalate il masamune e gli regalate quel rasoio con quel con quel con quelle caratteristiche quelle sono se poi invece volete andare su rasoi più economici c'è il pearl che non ho mai usato quindi non vi so dire se è buono non è buono sicuramente fa il suo dovere perché comunque non è un rasoio da 5 euro dove c'è un regolabile che costa 88 euro e 45 sicuramente fa il suo mestiere e magari è forse anche più indicato per una persona che si sta avvicinando a questa questa passione a questo hobby e non non sa ancora se poi sarà il caso di spenderne 300 di euro ecco parliamo degli sciavette in questo caso diciamo che la persona a cui fate il regalo è una persona già più esperta che ha più manualità lo sciavette è un rasoio diciamo quello che utilizzano i barbieri di oggi è un rasoio che ha una lama intercambiabile quindi si cambia la lametta e poi il manico resta sempre lo stesso diciamo che ce ne sono di tutti i prezzi e tutti i costi quindi diciamo che ci avete un'ampia scelta questo è pura scelta personale poi è chiaro alcuni sono più leggeri alcuni più pesanti alcuni hanno una fattura migliore alcuni una fattura peggiore ma insomma potete scegliere tranquillamente quello che volete se poi invece il vostro amico tonsore è veramente una persona già rodata ecco beh ci sono i rasoi a mano libera potete andare su dei boker su dei dovo se non erro hanno no hanno su dei boker su dei boker sono rasoi guardate questo qui adesso questo costa 348 euro ma d'altra parte li vale andiamo ad aprire ecco qui guardate che spettacolo questa cosa è una cosa spettacolare bene passiamo alle lamette passando alle lamette voi qui avete sostanzialmente due opzioni no la prima opzione è comprare 200 lamette 100 lamette quindi una confezione monomarca perché magari sapete che la persona usa le treat carbon io le uso mi piacciono molto oppure potete acquistare questi set di lamette di diverse diverse marche che si che quindi danno l'opportunità a un prezzo contenuto di provare varie lamette poi decidere quale sarà la metta del futuro passiamo ai saponi da barba allora paia questo è un brand che io non ho mai provato quindi non conosco ma so che è apprezzatissimo e in effetti lo devo provare quindi può essere che li acquisti io stesso dei paia il paia ha varie formule ok e c'è la ck6 insomma ci sono ci sono varie formule e tra queste formule potete insomma non vi fermate sulla formula se non sapete esattamente di che stiamo parlando semplicemente scegliete voi cliccate su qualsiasi sapone di questi diciamo questo adesso io non lo conosco e trovate nella descrizione ok le note olfattive che sono queste qui note di testa agrumi fruttato floreale paciuli caramello e vaniglia e poi fondo legno muschio e ambra quando voi trovate quelle note olfattive che più vi aggradano prendete quel sapone quel quel dopo barba ci sono i dopo barba abbinati e avete fatto contento il vostro amico e altro marchio che ritengo molto molto valido è have a great shave detto hugs ok fa saponi sia al tallow che al vegetali io personalmente ho apprezzato molto aftermath questo qui e adesso un altro che non mi ricordo vabbè comunque ci sono molti saponi questi saponi sono fatti in grecia quindi prodotti europei e tra l'altro sul canale trovate l'intervista al proprietario di have great shave intervista particolare perché lui ancora stava diciamo testando i suoi prodotti senza avere le certificazioni quindi non si è fatto vedere in faccia adesso sono prodotti ufficialmente certificati in europa e rispettano tutti gli standard sono oggettivamente ragazzi prodotti fantastici fantastici ecco l'altro che ho utilizzato il conclusion non mi ha fatto impazzire ok passiamo agli stati uniti d'america stirling stirling ha una figata ragazzi la figata è che vende sapone dopo barba e dopo un barba in crema il quale è non è aggressivo sulle pelli delicate quindi potete regalare o il tris oppure solo sapone dopo barba sapone e dopo barba in crema la bellezza di stirling è che la qualità è ottima il prezzo è contenuto ma soprattutto se voi guardate quanto sto scendendo c'è una quantità di profumazioni incredibile qui vi perdete state ore a trovare la profumazione che più vi piace sono prodotti di qualità medio alta quindi vanno già benissimo e durano molto i saponi perché sono quasi duri quindi questa è un'ottima scelta a mio avviso ariana ed evans ariana ed evans parliamo di saponi di altissimo livello parliamo di saponi di altissimo livello sia nella nella diciamo formula kaizen 2 che quindi sono saponi fatti con grasso animale che nella formula wr1 che sono saponi fatti con grasso vegetale insomma entrambi molto buoni diciamo che la sensazione sulla pelle è che una volta utilizzati questi saponi qui non ci sia necessità effettivamente di mettere un dopo barba perché la pelle rimane idratata quindi qui al di là della profumazione come cadete cadete bene io tutti quelli che ho usato li ho apprezzati li ho apprezzati tantissimo extrocosmesi extrocosmesi ovviamente ha anche il suo sito www.extrocosmesi.it per cui vi consiglio di andare a vedere anche la quindi comprate dove avete più più vantaggio sul sito di extrocosmesi qui in descrizione trovate lo sconto sconto 15 quindi avrete un 15 per cento di sconto ora voi durante il black friday vi andate a vedere se è più conveniente lo sconto di goodfellas o lo sconto di extrocosmesi e li comprate qui stiamo parlando di prodotti di profumeria nel senso che il donna è una persona che ama giocare con le profumazioni anche qui avete il dopo barba sia alcolico che in crema idratante ok e quindi potete regalare il tris potete regalare solo il sapone solo il dopo barba insomma potete fare quello che volete la cosa bella è che i dopo barba alcolici di extrocosmesi è vero che contengono e diciamo ingredienti che vanno a umettare e indratare la pelle che è quello che deve fare il dopo barba ma è vero anche che contengono una quantità tale di oli essenziali che possono essere usati come potete volete quindi permangono sul viso per molto tempo ce ne sono tantissimi e io ne ho davvero tanti ah ci sono anche i doccia shampoo l'ultimo che usate è proprio gregory questo qui del quale ho comprato anche il sapone che presto uscirà sul canale ce l'ho da un sacco di tempo ma ancora non l'ho fatto uscire ecco la bellezza di questo sapone nel particolare è che c'è la ciotola in ceramica realizzata da elisabeth occhi e quindi paciamamma ceramiche e insomma bella roba di qualità anche conte di puglia mi è piaciuto moltissimo insomma ce ne sono ragazzi ce ne è un'infinità i profumi sono tanti possono piacervi non piacervi ma insomma potete scegliere tranquillamente altro brand che non conosco ma che presto conoscerò o meglio avrò provato è wally cow wally cow cow non so come si pronunci per la precisione comunque questo anche è definito come un brand di altissima qualità tutti quanti quindi mi aspetto che sia così perché altrimenti sarei l'unico che dopo che l'ha provato dice che di cattiva qualità quindi sicuramente sarà saranno tutti i saponi ottimi e anche qui trovate tantissimi tantissime profumazioni insomma ve li andate a vedere scegliete quella che più vi piace qui andiamo su un prodotto veramente di nicchia sono saponi diciamo tra il crema e il sapone solido o quasi solido la particolarità è che sono che sono con dei balsami analcolici che però non perdurano nel tempo quindi se a voi piace utilizzare il vostro profumo favorito e che insomma il dopo barba faccia solo il dopo barba duri sul viso 5 minuti per il piacere di avere una cosa profumata sotto il naso e poi vada via lasciando spazio ad altro ecco vi dico che union è fantastico avano è fantastico amaretto e fotonico e vi dico già che ho acquistato warmest record ce l'ho già nella mia collezione ancora non l'ho provato presto lo proverò sul canale taylor of old bone street questi sono i saponi da barba con i quali io ho iniziato ok ho iniziato con quello al sandalo sandalwood sono delle creme i dopo barba sono sempre senza alcol forse magari ce n'è qualcuno non lo so ma se non sbaglio sono tutti senza alcol tutti alcol free sono prodotti inglesi ok e questo per esempio è caratterizzato da una elegante fragranza di tabacco insomma sono ottimi saponi anche con questi andate tranquilli sceglietevi la profumazione vi piace c'è la mia favorita e don college qui andiamo su un prodotto italiano di altissimo livello ok saponificio varesino anche qui scegliete quello che volete sono andate sul sicuro sul sicuro pennelli da barba ne abbiamo di qualsiasi prezzo ci sono sintetici in tasso in sedola di maiale in cavallo che a me personalmente non fanno impazzire e poi ce li abbiamo anche misti ok voi qui scegliete insomma il pennello da barba a meno che non siete un appassionato che sa quale pennello vuole diciamo uno lo sceglie anche per il manico tutto sommato no per per l'oggetto in sé io personalmente a un neofita consiglierei un pennello in sintetico perché perché alla fine vi da un'ottima resa con una spesa modica e vi da la possibilità di provare e poi cambiare andiamo sul sito di epoca barberia anche di questo c'è il link in descrizione che aiuta il canale qui trovate prodotti pantarei cioè trovate trovate altre marche oltre a tutte quelle che ho citato molte di quelle che ho citato già ci sono anche qui trovate i prodotti della pantarei che sono ottimi dei quali però a me le profumazioni non hanno fatto impazzire sempre eccoli qui paradigma non mi è piaciuto e ce n'è una tra queste che mi è piaciuta non vi dico qual è perché uscirà presto sul canale però al di là delle profumazioni che magari a voi piacciono sono prodotti di altissimo livello dal punto di vista meccanico questo è un prodotto che non conosco ma che tutti decantano come ottimo e quindi Barrister & Man anche qui scegliete la fragranza che vi piace e regalatelo poi insomma verrà apprezzato Master Soap Creation anche questo non lo conosco ma è un'altra azienda su cui ho messo gli occhi e che in realtà vorrei anche intervistare il proprietario è un'azienda che è sudafricana vedete? Handcrafted in South Africa quindi fatti a mano in Sud Africa anche qui molte profumazioni quindi scegliete quello che vi piace e via e potete regalarlo ok? e questa era epoca barberia Vanity Stock su Vanity Stock io non ho sconti e non ho affiliazioni quindi questo è un consiglio che vi do ecco così gratis sicuramente gratis anche gli altri sono gratis se non usate il link qui Vanity Stock mi piace intanto perché ha un sacco di prodotti per la Cosmesi che vanno bene anche per le signore quindi se chi adesso sta guardando questo video si è annoiato per 23 minuti guardando tutto quello che vi volevo dire e sa bene che insomma può scegliere anche qualcosa per se stesso oltre che per il marito comunque qui andate su Rasatura non su Parrucchiere e Barbershop su Rasatura e trovate tantissime marche alcune già citate mi preme citare Westman Shaving anche qui io ho intervistato il proprietario ne ho usati due sono di ottima qualità i primi che sono usciti sono Adamastora, Alma, Ribalta poi è uscito Heres sì, Heres e poi questo non lo conosco questi nuovi e Utopia Utopia è uscito prima tra i primi e quest'altro pure che è uscito ora non lo conosco ma insomma sono prodotti di livello altissimo a me Adamastora ha fatto impazzire è una profumazione forse più estiva più primaverile estiva ecco va ancora bene ma magari a dicembre no mentre mentre se regalate che vi dico se regalate Utopia il Dopobarba è uno spettacolo ah i Dopobarba sono sia in emulsione che in che in che alcolici insomma quindi scegliete quello che più vi piace altra altra azienda interessante è Pinnacle Grooming a me il sapone che ho provato l'unico che ho provato è piaciuto tantissimo all'epoca mi lamentai delle 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 etichette che erano stampate su una carta per la quale una volta bagnata andava via il colore che è un peccato per un'azienda di alto livello non so se è ancora così magari questa cosa è cambiata però insomma i saponi sono di qualità le profumazioni sono molto particolari anche qui cliccate sul sul sapone vi andate a vedere quali sono le note olfattive e scegliete in autonomia ultima azienda che vi cito è Los Javones de Roserra sono saponi spagnoli in realtà ne ho uno non l'ho ancora usato e non l'ho ancora usato perché la profumazione non mi ha fatto impazzire è noir ma insomma lo userò presto comunque anche qui sono saponi decantati come ottimi saponi magari ecco non scegliete una profumazione della quale non siete sicuri io ho scelto questa diciamo un po' a caso e non non mi ha fatto impazzire ma insomma magari ce ne sono altre che vi piacciono tantissimo perché no altra azienda che che nominerei è saponificio Pachis eccolo qui questa è un'altra azienda italiana che ho provato ho anche intervistato i produttori tra l'altro diciamo che verso fine novembre presenteranno altri prodotti non ho ancora dato sapere quali quindi magari vi interesseranno i saponi sono di una qualità veramente eccelsa a mio avviso hanno due linee di topo barba classic e plus la classic diciamo è alcolica la plus invece è lenitiva non è alcolica ed è ed ha alti poteri lenitivi per la pelle quindi ve la consiglio per chi ha una pelle molto molto delicata ecco qui ragazzi siamo sul mio canale youtube questo è l'ultimo video pubblicato in effetti al di là di questo quello che volevo farvi vedere è che esiste un merchandising del canale andando a cliccare ci sono ci sono ecco tanti prodotti magari vi piacciono e perché no scegliete quello che più vi piace e regalatelo qui fate un regalo anche a me in effetti ci sono molti ovviamente molte fantasie una una che piace molto è Bayroom Barbershop e ci sono anche tante qualità tante qualità di magliette e di felpe quindi potete scegliere quelle più costose meno costose insomma magari un regalo carino non lo so vedete voi questo è il back end di youtube comunque nella descrizione dei video avete lo sconto di extra cosmesi avete i referral ok quindi la sua goodfellas epoca barberia il merchandising del canale eccolo qui e poi per chi volesse iscriversi perché no c'è un canale discord nel quale facciamo chiacchierate tra appassionati e amici ormai siamo amici quindi chiacchieriamo e cazzeggiamo anche tanto andate a dargli uno sguardo e poi c'è un instagram nel quale pubblico gli shape of the day insomma in realtà nemmeno con tanta assiduità benissimo direi che con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi ciao iscriviti al canale Grazie a tutti.